Siamo su F1 2012 Quindi gustiamoci la intro se c'è Se non c'è non ce la gustiamo No c'è Quindi direi che sto anche zitto Così ve la faccio vedere Così ve la faccio vedere Così ve la faccio vedere Grazie a tutti. E' epica, diciamo, come quella che potrebbe essere quella di GT5, però comunque molto 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 bella. A parte l'installazione iniziale, che vabbè non è stata lunga, diciamo 10 minuti rispetto a che non so. Sì, vabbè, crealo adesso, va bene. Intanto l'avevo già creato con la demo, vabbè, crea in un altro, che ti devo dire? Crea, crea. Grazie. Eh? Tornare il codice all'interno dell'evozione è su una scheda da grattare. Eh? Una scheda da grattare? Io da grattare qua... Non ho un bel niente, però ho un codice. Cos'è? E cosa serve? Puoi provare... Accederai al gioco online... Vabbè, dai, dopo. Non ora. Adesso non c'ho voglia. Senti, inserisci il tuo nome. Mettiamo come nel coso. Goku. Il tuo cognome. Ma che è uno? Secondo te mi chiamo uno. KB. Grande! Europa. Italia. Non molto elevato, non ho mai guidato in vita mia e voglio imparare con calma. Ho fiducia? Dai, partiamo col livello difficoltà medio. Cos'è? Cos'è? Vabbè, il test per giovani piloti, ovviamente, ragazzi, lo facciamo con la Ferrari. Cioè, ci mancherebbe altro. Beh, mi sa che non lo facciamo tutto stavolta, eh. Ah, si può fare subito... Sta roba? Non ho capito. Cosa? E io cosa devo fare? Ah, vada solo il test. Grande! Grande il test. Test, vabbè, test Yas Marina, Abu Dhabi. Eh, come la demo, dai. Sì, se saltiamo... Vabbè. Quarta, ter... Guardate, guardate. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta. Mettiamo la settima. Accelera. Frena. Sì, ma io volevo impostare comandi guida. Ehm... Ehm... Beh, 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 beh. Così. L'imposto così, comandi che mi sento molto meglio. Marcia su, X, giù. No. Marcia giù, questa. Stato, vettura, tondo, mettiamo R1. Retrovisione. Retrovisore L1. Cambia telecamera. Cambia telecamera. Cosa metto? Quadrato, dai. Quadrato. Non me lo fai mettere? Tondo. No! Eh, cambiate l'età. Triangolo, vai. Vai, vada a triangolo, dai. Triangolo, va bene. Basta. Indietro. Perfetto. Salvataggio automatico. Figata! Ragazzi, sto gioco mi piace, mi piace, mi... Mi piace! Vabbè, no. Vabbè. Grazie. Perfetto. Mi fai cambiare marcia? Ah, ho messo R2, no? Dovevo mettere R1. Eh, è vero, no? Cagato. Ho detto una cavolata. Sì. Sì, io me la sento, però... Ricambio i comandi perché non vanno bene. Eh, marcia, questo. Marcia giù, questo. Stato vettura, tondo, aveva detto. Sì. Retrovisore, questo. Va bene, dai. Perfetto. Se me li ricordo... Va bene. Eh, vabbè, direi che... Pian piano faremo tutti i test... Vabbè, facciamo giusto questo perché tanto è ridicolo. Poi facciamo accelerazione frenata, li facciamo... Test rettilineo. Ok. Facciamo solo questo di test e poi gli altri ve li facciamo di volta in volta. È inutile che sto qui a menarmela e a farveli... Tutti insieme, tanto... No, no, mi piace da qua. No, no, qua. Perfetta. Beh, l'hai già detto. Ah, già, aspetta. Così si guarda. Eh, accede... Vai. Sì, sì, va bene. Mi fai partire? Sì. Vai, 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 vai. Schiascia! Ah, devo cambiare. Forse ho frenato un po' troppo presto. Folle. Va bene. Intanto che lui ha raccolto dati utili. Io vi saluto, vi ringrazio. E questo è il primo di una lunghissima serie. Ragazzi, lasciate i commenti. Ditemi cosa ne pensate perché questo gioco secondo me sarà epico e ci divertiremo veramente un sacco a... A scannarcela contro le altre autovetture. E andremo a battere tutti. Bella, ragazzi.